Chi di voi ha la possibilità di uscire, esca ora immediatamente. Tenete la testa bassa, non guardate nessuno in faccia, pensate solo ad andare via. Lee, sta calmo, ci sono io qui. In diretta tra cinque minuti. Ce le hai le correzioni del talk d'apertura? Stiamo facendo ancora delle modifiche. E queste modifiche me le date prima del programma o dopo? Lo sai, un bel primo piano su di me la risolviamo insieme. Una soluzione sempre tanto semplice quanto stupida. Ecco a voi il mago di Wall Street in carne ed ossa. Mi chiamo Lee Gates, benvenuti a Money Monster. Chi non rischia nulla, nulla guadagna. È meglio vendere, è meglio scaricare. Fuori le palle, fate gli uomini. Chi è quel tipo sulla 2? Chi si vuole ragnare, sentiamo. Chi è, qualcuno lo conosce? È una questione sindacale? Interrompi. Voglio le telecamere accese. Senti, accendi le telecamere. Parti, rimandaci in diretta. Forza, accendi. Torniamo in onda. Tiralo fuori e indossalo. Ma così poi salto per aria. Il detonatore ce l'ho io. Se stacco il pollice da qui, finiamo tutti in mille pezzi. Ho una pistola, ma non sono io il vero criminale. I criminali sono quelli come lui. È tutto marcio, credetemi. Sono tutti corrotti. Ma noi ci lasciano in mutanda e invece loro la passano sempre liscia. È giusto secondo voi? Continua a parlargli, ok? Sei bravo in questo. Hai perso tanti soldi quando il mercato è calato. Hanno ritracciato la sua ragazza. Era tutto quello che avevamo fino all'ultimo centesimo. Che stai facendo? Avrai le tue risposte. Nessuno ha mai fatto domande su questo, così rischia di saltare fuori tutto. Vogliamo entrambi sapere che cosa è andato storto. Non lo sappiamo. Si rende conto che questa è una situazione molto delicata. Sono a 20 metri da una bomba e lei mi parla di situazione delicata. Siamo esseri umani, non computer. Abbiamo una coscienza. Io cerco di salvarlo. Voi volete ucciderlo. Io voglio una spiegazione. Seguite i soldi e troverete la frode. Sono con te. Non voltare mai le spalle. Non voglio vederti morire. No, mi auguro. No. Sei venuto qui in cerca di risposte. E meriti delle risposte.